Musica Mercoledì 10 aprile, buon inizio giornata a tutti voi. Riprendiamo la nostra informazione con il telegiornale del mattino. In apertura la politica perché con le elezioni ieri in consiglio regionale sono stati completati tutti gli assetti istituzionali. Resta qualche mal di pancia all'interno della maggioranza di centrosinistra e fra gli opposti schieramenti ma il presidente della regione Paolo Frattura guarda avanti con ottimismo. Sentiamo in apertura Giovanni Minicozzi. All'indomani della definizione dei nuovi assetti istituzionali con l'elezione del presidente del consiglio regionale, dell'ufficio di presidenza e delle quattro commissioni permanenti avvenute ieri a Palazzo Moffa ma non senza sorprese, Paolo Frattura parla del futuro della sua maggioranza e si assume tutte le responsabilità per non avere eletto come previsto Vincenzo Cotugno al vertice dell'Assemblea. Malumori e mal di pancia sempre esclusivamente addebitabili al presidente che guida la coalizione. Il presidente si carica ogni responsabilità, se ne fa portatore perché anche questi mal di pancia possano essere trasformati in opportunità per la coalizione. Sarà difficile chiaramente considerando il contesto nel quale lavoriamo, la consistenza del consiglio e delle opportunità di rappresentanza e di responsabilità ma sono convinto che il buonsenso e la determinazione di fare bene per il Molise prevarrà su qualsiasi prospettiva o aspettativa personale. Recupererà pienamente dunque il rapporto con il rialzo di Molise? Ma io sono convinto che non sia stato inclinato il rapporto. Prendo atto comunque di aver subito personalmente una scelta che è evidentemente in controtendenza rispetto all'idea di meritocrazia rapportata al consenso ricevuto che per me significava un metodo di scelta delle rappresentanze. Il centrodestra vi ha accusato di scorrettezza istituzionale poiché quattro consiglieri di maggioranza hanno contribuito all'elezione di Filippo Monaco alla vicepresidenza del consiglio al posto di Nicola Cavaliere. Le opposizioni hanno il loro vicepresidente. Ora io capisco l'atteggiamento di un centrodestra nervoso che forse non è più abituato a sedere tra i banchi dell'opposizione ma anche su questo tema io sono convinto che al di là del nervosismo tutto diventerà impegno a condividere un progetto di Molise del quale abbiamo bisogno tutti, maggioranza e opposizione ma un progetto da condividere non solo tra le forze politiche ma soprattutto con le forze sociali, le forze economiche, le forze imprenditoriali, le forze sindacali che tutte insieme devono capire che è arrivato il momento di sedersi intorno a un tavolo e con serenità affrontare proposte concrete con tempi certi per invertire la logica dei fallimenti che purtroppo oggi attanaglia ogni possibilità di vedere in maniera rosea il futuro. E allora se vogliamo riaccenderlo il sorriso di speranza dobbiamo capire che la logica di squadra, di squadra, forze politiche e forze sociali non può che essere una, quella di lavorare insieme. E ora cambiamo argomento, parliamo dell'autovelox di Cantalupo perché è pronta una nuova ondata di ricorsi contro il Comune per le multe del 2011. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Il Comitato Protrignina e il sindacato CSA FIA del non hanno dubbi. Le cartelle sattoriali inviate dal Comune di Cantalupo per le multe fatte con l'autovelox fisso tra febbraio e giugno del 2011 almeno per ora non vanno pagate. Anche in questo caso, infatti, è possibile presentare ricorso al giudice di pace. Ricorso immediato al giudice di pace per chiedere la sospensiva, l'annullamento della sospensiva della cartella. Anche perché ci sono i termini anche giudiziari. C'è un decreto prefettizio che è sopravvenuto dopo l'emissione del titolo e quindi la legge dice che si può chiedere la sospensiva del titolo esecutivo perché c'è il decreto prefettizio di Valente. Primo motivo. Secondo motivo, ovviamente ormai è acclarata la cosa, c'è il ricorso al TAR che è stato già nel merito discusso il 20 dicembre e stiamo aspettando la sendenza. Noi invitiamo gli automobilisti a non pagare e venire al comitato perché queste multe, c'è da dire, che sono tutti di quelli che non hanno fatto ricorso. Alcune cartelle sattoriali fanno venire brividi. Un automobilista, se appreso, dovrà pagare oltre 4.000 euro. Ma prima di dare il via a una nuova ondata di ricorsi, il comitato Protrignina lancia un appello al sindaco di Cantalupo. Sospenda questa procedura, sindaco Biondi. Lei si sta comportando in modo molto rigido, molto crudele nei confronti degli automobilisti. Lei ha cinque anni di tempo per riscuotere quel titolo del 2011. Attenda la sendenza del TAR. Se la sendenza del TAR sarà positiva nei suoi confronti, lei potrà esercitare la sua procedura. Se la sendenza del TAR non sarà positiva, che significato ha oggi per cuotere contro i cittadini, per riscuotere la cartella e poi domani ridargli i soldi? Gli ridaremo i soldi agli automobilisti molisani e abruzzesi di tutta Italia? L'associazione Abruzzo Molise della Gran Bretagna ha consegnato all'associazione Cuore Sano Onlus i fondi raccolti a Londra nella serata dedicata al progetto chiamato Molisani. In un periodo particolarmente difficile per la ricerca scientifica, le iniziative di associazioni e cittadini sono indispensabili per garantire la sopravvivenza e la continuità all'attività di ricerca, ha affermato il presidente di Cuore Sano Centrito. Un modo utile ed efficace, senza alcun costo per i cittadini, è quello di utilizzare la dichiarazione dei redditi per devolvere il 5 per 1000 proprio alla ricerca scientifica, poi concluso lo stesso presidente dell'associazione. Bene, è già pronto alle nostre spalle il giornaledelmolise.it, dunque passiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali di oggi. Il giornaledelmolise.it apre con i retroscena che riguardano la politica regionale e quello che è accaduto ieri in Consiglio. Il titolo, Mistero Buffo in Consiglio regionale, salta l'asse Frattura Patriciello e nasce quello con costruire democrazia, si chiede proprio il quotidiano telematico. L'articolo porta alla firma dell'editorialista Pasquale Di Bello. Andiamo a leggere il sommario. È stata una mattinata di sorprese, a ripetizione quella che ha portato all'elezione di Vincenzo Niro dell'Udeura alla presidenza del Consiglio regionale, al posto del favoritissimo Vincenzo Cotugno di Rialza Timolise. contestatissima dal centrodestra all'elezione a vicepresidente del consigliere di minoranza Filippo Monaco di costruire democrazia, eletto con i voti della maggioranza. All'interno, dunque, tutti in retroscena di questa vicenda. E ora andiamo a vedere le altre notizie in apertura di pagina. Ospedale Isernia bloccate per mezz'ora in ascensore insieme a un cadavere. Questo per la cronaca. Poi ancora a lato, cronaca giudiziaria. Solto Iorio per l'allargamento del cratere sismico. Oggi, per l'ex governatore, nuova udienza preliminare. Sotto la lente, l'affare Termoli Jet. Si parla anche al lato dei lavoratori della GAM. Ieri davanti al Consiglio regionale. Bisogna fare presto. Poi ancora lavori a pieno ritmo in Consiglio. Nominate le commissioni. C'è spazio anche per una notizia che riguarda l'ospedale di Agnone con l'intervento del coordinatore del PDL di Giacomo che dice Stoccom, Don Martino, gli altri hanno fatto solo propaganda. Sindaco Venafro, Pietracupa sulla rampa di lancio. Poi altre notizie, naturalmente, che riguardano l'Italia e il mondo. Tutto questo sul giornale del molise.it. Andiamo sugli altri quotidiani. Ecco come apre oggi Primo Piano Molise fuori Cotugno. Niro presidente. Inizio di legislatura col botto. In Consiglio regionale si consuma lo strappo con gli ex di alleanza di centro. Il più votato del centro-sinistra rimane senza incarichi. La partita se la giudica il coordinatore dell'Udeur. E poi le reazioni riportate qui in prima pagina dal quotidiano, da Primo Piano Molise. Rialzati Molise a secco. Frattura dovrà spiegare. Patriciello adirato e deluso. La situazione si commenta da sé. Vediamo le altre notizie. Isernia al voto. Da Pollonio candidato unico del centro-destra. Nicchia solo Fantozzi. Sul generale c'è pure via libera Di Mauro. E a Campobasso, l'impasto di giunta, scaldano i motori due nuovi assessori. Rischiano con la Russo, dice Primo Piano Molise, Di Giorgio e De Benedittis. Andiamo a vedere le notizie in alto. L'inchiesta sul post-terremoto. Cratere gonfiato, prosciolto Michele Iorio. L'ex governatore scagionato dalle accuse di abuso d'ufficio e indebita percezione di fondi erogati dallo Stato. A Isernia la cronaca bloccate in ascensore con un cadavere paura per due infermiere del Veneziale. Vediamo ancora altre notizie che oggi troverete all'interno di Primo Piano Molise. Dal capoluogo venditori abusivi al Cardarelli, cittadini esasperati. Poi Baranello incidente nei campi. Agricoltore travolto dal Moto Zappa. Si parla anche della ex Solagrital. Nel box qui in basso, mancato versamento dei contributi, indaga la procura nei guai. Cinque persone, tra loro due noti politici. E ora le notizie che riguardano lo sport. Lega Pro, Lupi, situazione complicata per la scadenza. Covid-19, Serie D, Termoli, Lira di Cesare dopo gli incidenti di Isernia. E c'è spazio anche per l'eccellenza. Fornelli, previsto un esodo verso Boiano. Questo per Primo Piano Molise. Andiamo sul quotidiano del Molise. Regione Niro al fotofinish. Brucia il favorito. Cotugno, Ciocca, Totaro e Fusco Perrella sono i delegati molisani, intanto per l'elezione del Presidente della Repubblica. Monaco, eletto Vicepresidente, grazie alla maggioranza. E scatta la bagarre. Presidio, poi, a Palazzo Moffa. I lavoratori della GAM portano in strada rabbia e speranza. Non lasciateci soli. Presidio ieri in Consiglio regionale. Per la cronaca giudiziaria, cratere allargato, Iorio prosciolto dalle accuse. E poi ancora accade al Veneziale di Isernia, bloccate in ascensore con paziente morto, una discesa da brivido verso l'obitorio. L'altro titolo in evidenza riguarda invece la cronaca e in particolare la confessione di Carlo Cosco. Ho ucciso io Lea Garofalo, confessione sciocchi in tribunale. La vicenda si riferisce all'omicidio di Lea Garofalo che aveva vissuto anche a Campobasso. Uccisa poi, come ha confessato, dall'ex compagno della collaboratrice di giustizia. Isernia Comunali quotato da Pollonio e ancora vi segnaliamo lo sport qui al lato. Lupi di Palma lancia l'ultimatum a Capone, risposta entro venerdì. Isernia, mister Farina, molti dei miei non sono da Serie D, poi eccellenza, Panico carica la Turris, uniti per il terzo posto. C'è spazio anche per una notizia di muoto, Cristiano Antioglu, piazza il record di categoria. Questo per il quotidiano del Molise. Andiamo ora sui fatti del nuovo Molise. Forse sceglie il titolo più azzeccato per quello che è accaduto ieri in Consiglio regionale. Il capolavoro lo definisce infatti il quotidiano. A sorpresa ha letto Vincenzo Niro, presidente del Consiglio. Paolo Frattura e il PD fanno fuori. Prima Iorio e ora Patriciello. In aula sono state sparigliate le carte. Salta l'elezione annunciata di Vincenzo Cotugno, la maggioranza scippa al centrodestra la vicepresidenza. E sull'argomento c'è oggi il fondo del direttore Pino Cavuoti dal titolo La partita perfetta. Vediamo le altre notizie. Post sisma e allargamento area del cratere assolto Michele Iorio. Ieri la sentenza. Il fatto non sussiste. Le altre notizie del giorno. Elezione presidente della Repubblica ha designati i grandi elettori Totaro, Fusco Perrella e Ciocca. Si parla anche del fiume Trigno inquinato. Il caso finisce in Parlamento. Il senatore Castaldi, commissione d'inchiesta, chiede la commissione d'inchiesta. Poi spazio al Carsic. I sindacati chiedono lo stop alla mobilità. La procedura adottata non soddisfa appieno. E una notizia di cronaca poi a fondo pagina. Si blocca la censura e restano bloccate con il paziente morto e accaduto a Esernia. Protagoniste infermiera e portantina. Questo anche per i fatti del nuovo Molise. Diamo uno sguardo alla prima pagina del Sannio Quotidiano. Consiglio Niro eletto presidente. Ieri a Palazzo Moffa c'è stata la prima seduta del Consiglio caratterizzata da tensioni e colpi di scena. Dagnone tagli al caracciolo le richieste dei dissidenti. L'appello a frattura finché intervenga sul caso per spiegare quale futuro attende la sanità. Poi la cronaca giudiziaria. Iorio ha prosciolto dalle accuse. La vicenda è quella legata all'allargamento dell'area del cratere sismico. E una notizia che riguarda anche i lavoratori della GAM. GAM Solagrital, lavoratori in protesta. Ieri in serata all'incontro per discutere del caso. Ecco le notizie che troverete oggi all'interno del tempo. Le pagine dedicate al Molise. Voto a sorpresa è Niro il presidente. La maggioranza strappa anche la poltrona numero due all'opposizione. Doppio colpo di scena nell'aula del Consiglio battuto il papabile Cotugno. Dal capoluogo cratere sismico prosciolto Michele Iorio. Poi c'è spazio per una notizia che riguarda il comune di Termoli. Mini rimpasto in arrivo, cambi di deleghe e new entry. A fondo pagina bloccata in ascensore con la salma sulla barella è accaduto a Isernia. Poi si parla anche di una notizia che riguarda Larino. Intercettazioni danneggiate le sistemano i RIS. Lo ha deciso il giudice del processo a carico di 15 persone accusate di traffico di droga. Andiamo avanti con la sanità. Si al mini ticket per i farmaci di fascia A. Il Consiglio di Stato ha colto il ricorso della regione Molise contro la decisione del Tar. Poi la ricerca scientifica da Londra per sostenere la ricerca dell'associazione Cuore Sano. La notizia che abbiamo letto anche in rassegna stampa. E qui al lato multe autovelox scattano i primi ricorsi. L'autovelox è quello di Cantalupo. Una notizia di cronaca sindacale che riguarda la ex geomeccanica. La MDT punta sul rilancio di questa azienda. Poi i comunali di Isernia spunta da Pollonio, candidato del centrodestra. E si parla anche di economia. Sbloccati 100 milioni per pagare le imprese. Il presidente dell'ACEM Santoro parla e dice ripartiamo sul mercato del lavoro con ottimismo. Lasciamo anche il tempo. Ora andiamo sui quotidiani nazionali con l'aiuto del nostro touchscreen. Naturalmente le notizie riguardano quello che sta accadendo in Parlamento. E partiamo proprio dal Corriere della Sera. Una rosa di nomi per il Colle. Incontro Bersani, Berlusconi, Spiragli per un'intesa, dice il Corriere. Il PD prepara intanto una lista per scegliere un presidente condiviso. Sfogo di Renzi contro il segretario. Questo per il Corriere. Andiamo sul tempo. Berlusconi e Bersani. Primi passi sul Colle. Titola in apertura il tempo. Citando i due leader esclusivamente con le iniziali trattative. Poi giunge il tempo. Il segretario PD, capo dello Stato condiviso, ma niente governissimo. E Bossi. Se fossi Silvio, voterei Pierluigi. Dopo Napolitano, Marini il meno peggio. Poi in alto, no alle commissioni. Grillo grida dal suo blog al Golpe. I 5 Stelle occupano il Parlamento. Chiaramente un'occupazione simbolica. Lasciamo anche il tempo. Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. La consulta ripesca l'Ilva. La notizia riguarda chiaramente la Puglia. Costituzionale e la legge salva azienda. No al ricorso dei PM. Gelido, il capo della Procura Tarantina. Rispettiamo la sentenza. E a lato Berlusconi e Bersani. Operazione Quirinale. Il leader democratico pensa a Derita. Grillo grida al Golpe per le commissioni. Dalla Gazzetta del Mezzogiorno andiamo ora sull'Unità. L'Unità che in apertura parla di larghe intese per il Colle. Vediamo anche il sottotitolo. Un'ora di colloquio tra Bersani e Berlusconi. Si lavora a un presidente condiviso da eleggere al primo voto. Il PD che ha già parlato con Monti incontrerà anche Movimento 5 Stelle e Lega. Il leader democratico però ribadisce mai un governo con il PDL. Maroni commenta, si prepari e faccia subito l'esecutivo. Lasciamo anche l'unità. Andiamo sul manifesto. Il manifesto che sceglie oggi un altro titolo in apertura. Usando il nome della Thatcher scomparsa ieri in Inghilterra. Sorpresa anche senza Blair. E la Lady di Ferro. L'Italia ha meno dipendenti pubblici della Gran Bretagna. I dati dell'agenzia pubblica Aran dimostrano il massacro dei servizi di welfare, istruzione e sanità. Sceglie dunque questo titolo il manifesto. E dal manifesto andiamo su Libero. Libero che apre così Berlusconi e Bersani solo una sveltina. Vediamo a che cosa si riferisce nel sottotitolo. Ieri l'atteso incontro tra il leader del PDL e PD su Quirinale e Governo. Nessun risultato ma il fatto che si parlino pare un miracolo. Commenta Libero colpa della spocchia dal sinistra che ci impedisce di essere un paese normale. Poi aggiunge critico il quotidiano di centrodestra. Lasciamo anche Libero. Vediamo la prima pagina del mattino. Eccola qui. Il mattino si occupa in apertura della questione che riguarda l'economia. Decreto debiti, modifiche per il Sud. Governo pronto a sostenere un emendamento bipartisan. Più risorse e garanzie alle piccole e medie imprese. Uno sguardo anche ad avvenire quotidiano della CEI. L'ILVA svolta e non chiude. Apre così l'avvenire. La consulta, i PM di Taranto, vigilino risanamento e produzione, procedano. E questo per quanto riguarda il traccia screen. Andiamo avanti con gli altri quotidiani. La Repubblica, Bersani, Berlusconi, Rosa per il Colle, sia un nome condiviso. Grillo occupa le camere e parla di demolizione iniziata. Incontro di un'ora tra i due leader. Renzi escluso dai grandi elettori. Attacca il segretario. Non ha vinto le elezioni. La Repubblica si occupa anche di economia. Famiglia e potere d'acquisto crolla del 5%. Pattro tra cinque stati dell'Unione Europea contro l'evasione fiscale. La stampa, PD-PDL incontro senza intesa. Grandi elettori. La Toscana boccia Renzi. E il segretario lo attacca. Grillo grida al golpe sulle commissioni. Cinque stelle occupano le camere. Vediamo anche il messaggero. Bersani, Berlusconi, si tratta. Primo faccia a faccia di un'ora sulle larghe intese per il Quirinale. Il PD no al governissimo. Lo sguardo anche al giornale. Miracolo si parlano. Incontro Berlusconi-Bersani. Dopo più di 40 giorni il segretario del Partito Democratico, dice critico il giornale, si accorge che il centrodestra non è impresentabile. Fa l'unica cosa sensata, vede il Cavaliere. Il sole 24 ore. Da inizio hanno chiuse 4.218 imprese. I dati dell'Istat crolla al potere d'acquisto, meno 4,8%. Poi la Banca Centrale Europea in Italia, una famiglia su sei e povera. Vediamo anche lo sport nazionale con la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Titolo in grande, Dai Juve. Si riferisce alla partita di Champions di questa sera a Torino. Serve un'impresa, commenta la Gazzetta, contro il Bayern Monaco per passare alle semifinali. Conte suona la carica, la squadra è pronta per una super partita davanti Vucinic-Quaglia. Da Zoffa a Paolo Rossi, ragazzi, credeteci, questo è il loro appello. E con lo sport si chiude anche il primo appuntamento della giornata con l'informazione di Telemolise, informazione che torna come sempre alle ore 14 in diretta con il nostro telegiornale. Per il momento è tutto, grazie di averci seguito e buona giornata a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.